Parliamo di disuguaglianze. Nelle Marche ci sono 38.000 famiglie sulla soglia della povertà e la situazione complessiva ovviamente è stata peggiorata dalla situazione del terremoto. Cosa fare? In realtà da circa un anno, in maniera molto efficace da pochi mesi, ci sono strumenti che non ci sono mai stati. Se pensiamo al REI, il reddito di inclusione che è operativo nelle Marche, che ha già coinvolto circa 5.000 famiglie, dando un sostegno che porta il reddito familiare ai 620 euro, quindi ha un minimo vitale e allo stesso tempo fa percorsi di inclusione. Quindi di fianco alle difficoltà, anche strumenti nuovi, estremamente interessanti, dove l'unica incertezza è il destino rispetto ai percorsi che ci saranno. In realtà il lavoro delle istituzioni, degli enti, tende costantemente a creare opportunità di crescita economica, di crescita sociale, strumenti per il rilancio della nostra comunità, dalle famiglie alle singole persone. Sta spesso a noi favorire l'incontro, quello che viene messo in campo, perché questi processi divenneranno processi reali. Dalle marginazioni territoriali, che hanno bisogno di servizi, di risposte, che trovano nelle strategie delle aree interne una grande risorsa, ai percorsi individuali con strumenti nuovi di grande efficacia.